Grazie Presidente, noi abbiamo colto spunto da un articolo del giornale per presentare questa interrogazione, non è una novità che apprendiamo le notizie dai giornali, dalle conferenze stampa fatte unilateralmente, ovviamente non favorendo il dibattito nei comitati, nelle commissioni e nel Consiglio, non rispondendo agli atti nei tempi previsti, ma leggiamo le notizie sui giornali e questo è sempre un bel piacere e quindi cogliamo atto di aver letto a fine maggio su un giornale locale che documenti in regione per modificare l'autorizzazione ambientale, Palazzo Donini risponde che serve verificare la soggettabilità a via e nel corpo dell'articolo si legge le due aziende hanno presentato richiesta formale di revisione non sostanziale dell'AIA, gli atti sono stati inviati alla regione dell'Umbria il 25 maggio scorso. Quindi prendiamo atto dal giornale che i due cementifici di Gubbio hanno fatto una richiesta alla regione per una revisione non sostanziale dell'AIA. Non so se siete stati in Olanda, come invece dice la Lega di Gubbio, avendo fatto e scrivono nella loro mozione una richiesta di modifica non sostanziale alla Corte Internazionale di Giustizia Tribunale dell'AIA. Forse non siete arrivati fino in Olanda, anche perché non avete fatto in tempo almeno andare e tornare con la risposta, ma credo che facessero riferimento all'autorizzazione integrata ambientale, credo. Comunque detto questo, quindi entrando nel merito di una questione molto delicata, l'interrogazione ovviamente è tesa intanto a capire se gli articoli di giornale sono veritieri o meno, se c'è questa domanda e se c'è una risposta e quando questa risposta c'è stata. E di capire intanto se il ritardarsi dell'incontro che finalmente arriverà domani, giusto Vicepresidente, in commissione convocata dal Presidente Valerio Mancini rispetto ad una richiesta che è di gennaio, capire se questo ritardo, o al di là del coronavirus ci mancherebbe l'emergenza e quant'altro, è dovuto a una sorta di melina, tornando all'Olanda, la melina mi viene anche facile come battuta, quindi se è stata una melina per aspettare eventualmente l'ingresso di certi atti, oppure se domani ci darà delle spiegazioni più chiare rispetto a quello che intende fare nel piano dei rifiuti. Anche e soprattutto, e concludo per tenermi poi un minuto eventuale per la replica, che nelle linee di indirizzo del programma di governo, votate dai consiglieri di maggioranza, proposte dalla Presidente Tesea e dalla sua giunta, a pagina 50 nel capitolo Ambiente si legge chiaramente, occorre dunque disincentivare in ogni modo il ricorso allo smaltimento in discarica o all'incenerimento. Quindi le domande, diciamo anche a seguito del fatto che intanto c'è stato un Consiglio Comunale a Gubbio e sono passate alcuni giorni dalla data di presentazione, sono quelle che ho cercato di sintetizzare nell'intervento e nell'interrogazione. Grazie. Assessore Morroni. Beh, intanto l'interrogazione presenta un'imprecisione grave, Consigliere Betterelli. Quando lei parla di incenerimento rifiuti, le ricordo che qui si parla di uso come combustibile del CSS, che come è noto non è rifiuto. Seconda considerazione, se lei usa il termine di melina per sottolineare l'atteggiamento del nuovo esecutivo in merito alla questione del tema dei rifiuti, non so quale termine dovrà, come dire, pensare per definire la latitanza sonnacchiosa, inerte delle giunte passate sul tema dei rifiuti. E ora vengo a risponderle nel merito. Entrambe le cementerie di Gubbio, nel volgere di pochi giorni, hanno presentato ai sensi di legge comunicazione di modifica delle autorizzazioni integrate ambientali, AIA, il loro possesso. Come alcuni giornali hanno riportato, il servizio regionale competente ha già risposto ad entrambe le cementerie richiedenti. Per la modifica progettata, il servizio regionale competente ha ritenuto necessario che sia preventivamente effettuata la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, via. In attesa della presentazione nei modi di rito delle relative istanze, il procedimento di modifica dell'AIA deve intendersi sospeso. Ad oggi, nell'una, nell'altra cementeria, ha presentato istanze di verifica di assoggettabilità a via. Un procedimento che si dovrà concludere entro 90 giorni dalla presentazione degli distanza, con una decisione tecnica, sottolineo, con una decisione tecnica dell'ufficio competente, sentiti gli altri servizi regionali interessati, nello specifico l'ARPA e l'USL, ovvero le agenzie regionali competenti per la protezione dell'ambiente e la tutela della salute. Al procedimento di verifica, a seguito della pubblicazione dell'istanza, possono partecipare soggetti pubblici e privati, presentando osservazioni che l'ufficio competente è tenuto a valutare. Il Comune di Gubbio interviene quindi nel procedimento di verifica di via, ma anche nel successivo procedimento di modifica dell'AIA, nel quale sarà convocato come soggetto coinvolto nella conferenza di servizi, portatore di proprie competenze in materia urbanistico-edilizia e igienico-sanitaria. Non c'è pertanto nessuna intenzione di estromettere il Comune e tale ipotesi è del tutto infondata, caro Consigliere, perché il Comune interviene nei procedimenti amministrativi nei modi che la legge prevede. Così come non c'è alcuna intenzione di disattendere le dichiarazioni programmatiche in materia di piano regionale di gestione dei rifiuti, siamo semplicemente ed unicamente dinanzi ad una legittima richiesta di due aziende importanti per la città di Gubbio, così come per l'intero comparto economico della nostra regione. Ma tale questione non ha al momento, e lo sottolineo con molta fermezza, tale questione al momento non presenta alcuna interferenza con il tema del nuovo piano di gestione dei rifiuti di cui l'Umbria dovrà necessariamente dotarsi e in merito al quale il sottoscritto in questa Aula ha già, credo eloquentemente, dichiarato che nella seconda parte dell'anno, questo sarà il tema principale dell'agenda dell'assessorato che mi onoro di guidare, entro la fine del corrente anno noi porteremo all'attenzione del Consiglio e avvieremo tutte le procedure necessarie per far sì che l'Umbria si doti entro il primo quadrimestre del 2021, come da tempistiche di piano, di un nuovo piano regionale dei rifiuti. Consigliere Bettarelli. Rapidamente, intanto nella forma ringrazio l'assessore Morroni perché apprezzo che alle interrogazioni, agli atti risponde sempre, a differenza di altri che leggono, ci girano intorno, l'assessore risponde. Questo gliele voglio dare atto. Due questioni per farla breve. La prima è che, da quello che ho capito, da quello che mi risulta rispetto a due legittime istanze presentate da due importantissime aziende, in data 25 maggio, i tecnici, quindi perché lei dice una questione giustamente, una questione giustamente, poi ci torno, lei dice una questione tecnica, hanno risposto, mi risulti il 28 maggio. Quindi io sono molto soddisfatto che i tecnici, dirigenti della regione, in tre giorni analizzino una questione così delicata e così importante e diano una risposta. È veramente lodevole. Mi auguro e mi aspico che questa solerzia e questa celerità nel rispondere agli atti avvenga per tutte le istanze, per le istanze dei cittadini, le istanze dei consiglieri, le istanze delle persone e delle imprese e della nostra regione, perché è davvero meritevole rispondere in tre giorni ad una questione così articolata. Concludo con una questione, ma credo che la affronteremo più nel dettaglio domani, rispetto al di là dei tecnicismi CSS, rifiuti CSS, quant'altro, verifica della soggettabilità via, partecipazione, comune di Gubbio, osservazioni, insomma questioni più tecniche. Io credo che, e su questo apprezzo che lei è così disponibile, credo che ovviamente il piano dei rifiuti debba assolutamente avere un indirizzo totalmente politico. Quindi le elezioni le avete vinte, le avete vinte molto bene. Da domani ci farete capire, al di là dei ritardi, che ci sono stati, ci sono stati, non mi vergogno a dirlo, ci sono stati dei ritardi nel prendere delle scelte che andavano prese prima, questo io non mi vergogno a dirlo. Credo che da domani ci direte che cosa intende fare la Regione rispetto ad un argomento che credo, oltre la sanità, sia uno dei più importanti nella nostra Regione. Quindi da domani ci direte quali sono le vostre indicazioni politiche, ne parleremo oggi grazie alla mozione che ha presentato in parte oggi, alla mozione che ha presentato il collega Andrea Fora, ma da domani più nel dettaglio perché credo che la politica deve veramente insomma farla da padrona e dare gli indirizzi. Grazie. Oggetto numero 16 risponde la Presidente Tesei, interroga la Meloni Borio Bettarelli chi? La Vicepresidente Meloni. Futuro dell'Istituto per la storia dell'Umbra contemporanea e dei suoi collaboratori. Do la parola al Vicepresidente Meloni. Grazie Presidente, un sincero bentornato alla Presidente Tesei. Veniamo alla interrogazione che riguarda appunto il futuro dell'Istituto per la storia contemporanea e dei suoi collaboratori. Visto che siamo intervenuti in questi mesi anche in diversi in merito a questo tema, io volevo soltanto focalizzarmi su due o tre punti. Il primo è quello del ruolo svolto dall'ISUC nel campo storico-culturale della nostra regione, la sua collaborazione con l'Università, la ricerca, lo studio, l'archivio, la biblioteca. Il secondo è anche il lavoro che soprattutto in questo ultimo biennio l'ISUC ha realizzato e ha svolto anche in collaborazione con i comuni, con varienti, con l'Università, con le scuole. Cito soltanto circa 50 iniziative tra convegni, incontri e giornate di studio, tante pubblicazioni e soprattutto molti lavori didattici per oltre 1.200 studenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche per studenti che vengono da fuori regione. Mi piace ricordare che questo istituto storico ha al suo interno sei professionisti che hanno competenze e professionalità e che hanno anche un contratto in scadenza, due dei quali tra pochi giorni. Ora, il 21 di aprile è stato nominato un commissario, ma ad oggi non c'è ancora nessun decreto che probabilmente impegna il commissario a dare un indirizzo politico e anche un processo di riforma salvaguardando l'istituto e salvaguardando anche le professionalità. Quindi quello che oggi a noi ci preme, ci sta a cuore ribadire e soprattutto chiedere alla Presidente e alla Giunta quali sono quindi anche le attività e gli indirizzi strategici che si vorranno assegnare all'istituto per la storia contemporanea dell'Umbria, il ruolo quando verrà anche decretato sulla figura del commissario e anche quali azioni ovviamente si intende intraprendere per la salvaguardia occupazionale dei borsisti che sono però professionisti a tutti gli effetti, ma purtroppo ad oggi ancora precari. Grazie. Grazie, la parola alla Presidente Tesei. Venendo al tema dell'interrogazione che riguarda l'ISUC vorrei innanzitutto fare alcune doverose puntualizzazioni puntualizzazioni necessarie anche dal tenore dell'interrogazione. Ora, l'intervento riformatore dell'amministrazione regionale in tema di enti di ricerca a quanto risulta è iniziato alcuni anni fa e naturalmente non riguarda soltanto l'ISUC ma riguarda anche l'AUR, quest'altra ente molto importante per la nostra regione che è stata commissariata nel 2015 proprio al fine di riordinare il settore della ricerca regionale e che però è stato di fatto consegnato a questa nuova amministrazione regionale a fine 2019 ancora in stato di commissariamento. Ora, l'esigenza di procedere al commissariamento dell'ISUC in questa fase temporale è principalmente dovuta al fatto che gli organi di governo dell'Istituto individuati nel Consiglio di amministrazione e nel Presidente avrebbero dovuto essere rinnovati entro il 9 maggio 2020 salvo prorogazio e salvo anche, come tutti ben sapete, il periodo della proroga dovuta anche allo stato di emergenza. Ora, rinnovare il Consiglio di amministrazione che è composto da ben sette componenti non avrebbe avuto molto senso senza una rigenerazione e anche un ripensamento di questo ente. Rigenerazione invece necessaria proprio ai fini di ristabilire un quadro giuridico, economico e finanziario di certezze utile al rilancio di una realtà fondamentale come l'ISUC. E proprio per questo si è attivato il processo che ha portato poi alla nomina del commissario. Per quanto attiene poi le modalità di individuazione del commissario e a quel presunto mancato coinvolgimento dell'Assemblea legislativa che si evince dall'analisi dell'interlocazione, credo che sia opportuno precisare a quest'Aula che il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione consigliare competente e successivamente l'Aula ha esaminato e approvato le disposizioni che oggi sono legge. Pertanto il Consiglio regionale è stato ampiamente coinvolto in quanto tutti i consiglieri regionali hanno potuto conoscere il disegno di legge ed hanno potuto attivare gli strumenti e le prerogative istituzionali ad essi spettanti. Inoltre la legge regionale in materia di nomine che è la legge 11 del 1995 reca una disposizione di carattere generale che ricordo a me stessa che è l'articolo 17 bis sulla nomina dei commissari e che è del seguente letterale tenore. La nomina dei commissari per gli enti, le aziende, le agenzie e altri organismi pubblici, dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale. Pertanto la procedura che ha portato poi alla nomina di un commissario dell'ISUC è da ricondurre pienamente nell'alveo del quadro normativo regionale vigente in tema proprio di commissariamento di soggetti giuridici nei confronti dei quali aspettano proprio la Regione specifiche prerogative. E questo è avvenuto anche nei termini di legge. Occorre anche segnalare l'impossibilità tecnica sulla base della vigente normativa in materia di procedere a proroghe, rinnovi o contratti fotocopia di collaborazione in situazioni come queste, i cosiddetti collaboratori storici dell'Istituto. Questa situazione, che non può certo essere imputata alla Giunta regionale attuale, attualmente in carica, anzi che ci è trovata a gestirla e a dover intraprendere necessariamente un cammino di verità per i motivi tecnico-giuridici che ho precedentemente esposto. Non è stato fatto, quindi, quanto in qualche modo l'interrogante ha sollevato, non risponde praticamente all'esatto svolgimento dei fatti e che, in particolare, per il fatto, scusate un po' il bisticcio di parole, che il commissario dovrebbe essere nominato entro 45 giorni dalla sua individuazione, perché in realtà la nomina va fatta alla scadenza degli organi, e in questo caso dal 9 maggio 2020. Quindi rassicuro tutti che l'individuazione del commissario sarà poi nominato con decreto nei termini previsti per legge. In merito poi all'altra questione, che è quella della onerosità della scelta di un commissario straordinario, la quale, ad avviso dell'interrogante, addirittura pregiudicherebbe anche la piena funzionalità dell'Istituto, vorrei segnalare che il rinnovo degli organi avrebbe comportato compensi a carico del bilancio dell'ISUC, l'onere finanziario degli organi dell'Istituto è sempre gravato sul bilancio dell'ente. Il compenso che verrà individuato per il commissario non pregiudicherà i contratti di ricerca già stipulati, il cui finanziamento non ha alcuna connessione, appunto, con la spesa per gli organi ordinari o straordinari, come nel caso di specie. Non vi è, infine, alcun pregiudizio alla funzionalità dell'Istituto, in quanto si tratta di un ente, purtroppo, già lasciato sostanzialmente senza dipendenti e senza collaboratori. Il pregiudizio, questo sì, si è purtroppo già realizzato, ma non a causa della condotta di questa giunta. Comunque, anche su questo vi voglio rassicurare. Il nuovo commissario, come nello stile di questo Governo regionale, dovrà costruire un quadro di rinnovata certezza giuridica, economica e finanziaria, attorno all'ISUC, consentendone così il rilancio entro il 31 dicembre 2020, data in cui terminerà il suo incarico. E di fronte anche a quelle ipotesi che ho sentito e che non so dove trovino fondamento di 60.000 euro di compenso l'anno, comunico a questa Assemblea che il compenso per il nuovo commissario sarà solo di 6.000 euro. Questo anche in una ottica di riduzione dei costi della macchina pubblica, che per questo Governo regionale va di pari passo con il suo efficientamento e l'avete visto anche in molti altri atti che sono stati assunti. Da ultimo, quando la richiesta di conoscere le iniziative di salvaguardia dei borsisti precari, si deve ricordare che si tratta di persone che da fine 2019 risultano disoccupati, proprio perché chi ha governato fino al 2019 non ha purtroppo risolto il problema della loro precarietà. Ora, ogni iniziativa che verrà intrapresa sarà valutata dal commissario nel rispetto del quadro normativo vigente, in tema di rapporti contrattuali con enti aventi la natura giuridica dell'ISUC. Lo stesso programma di attività dell'ISUC 2020-2022, approvato dall'Istituto con deliberazione 394 del 2019, prende atto, peraltro, della impossibilità di rinnovare i contratti di collaborazione, tema che comunque ho a cuore e provvederò ad affrontare con il nuovo commissario. Quindi, fugate, ecco, in qualche modo le preoccupazioni su quella che è, diciamo, il compito e l'importanza di ISUC, che confermo, però credo che prima di paventare questioni particolari bisogna valutare ciò che è accaduto fino alla fine della legislatura precedente e allora molte risposte arrivano automaticamente. Grazie. Grazie, Presidente. La replica al Consigliere Meloni. Grazie, Presidente. Tutto molto chiaro e comprensibile anche le note a cui faceva riferimento e che abbiamo un po' anche ereditato alcune difficoltà. Questo era noto e ovviamente chiaro anche a noi. Quello che vorremmo in ogni caso ribadire qui, che mi sembra sia stato accolto sulla importanza di far proseguire l'attività dell'Istituto di Storia Contemporanea, però quello che chiedo ulteriormente è che, al di là di come ci siamo arrivati, si possa tracciare una strada nuova, perché è chiaro che l'Istituto vive e può continuare la sua attività se c'è un indirizzo strategico basato su attività chiare e soprattutto se c'è anche un indirizzo strategico di attività da fare nel futuro. Chiaro è anche che un istituto non può vivere senza il contenuto che è fatto da le professionalità, le competenze, gli archivi, le biblioteche e tutte le attività adesso connesse. Quindi mi auguro che il commissario, non appena verrà formalmente nominato con il decreto, che giustamente ricordava con la prorogazio, c'è tempo e ci sono ancora dei giorni, possa mettersi subito al lavoro e tendo ancora a sottolineare l'importanza di quanto detto, ma anche la presa in cura dei borsisti, che comunque sono veramente tanti, tanti anni che svolgono questa attività. Io credo che possano continuare a portare un contributo all'interno dell'ISUC e anche all'interno soprattutto della nostra società Umbra e anche per i ragazzi, per gli studenti delle scuole. Grazie. Intendimenti della Giunta regionale in merito a procedimenti disciplinari avviati nei confronti di dipendenti pubblici coinvolti dell'indagine magistratura sui concorsi pubblici nella sanità Umbria. Io ho firmato a Pastorelli, Fioroni, Rondini, Nicchi, Carissimi e Pucci Mancini. Chi la illustra? Consigliere Pastorelli. Grazie, signor Presidente. È fatto notorio che a seguito dell'inchiesta in oggetto che ha portato nell'aprile 2019 agli arresti domiciliari per alcuni esponenti di spicco del mondo politico Umbro, portando altresì alle dimissioni della Presidente e della precedente Giunta e dalle conseguenti elezioni anticipate svoltesi nell'ottobre scorso, siano stati indagati anche numerosi dipendenti pubblici, accusati anch'essi con vari capi di imputazione di aver contribuito ad impedire il regolare svolgimento dei concorsi pubblici nella sanità regionale Umbra, condizionandone gli esiti. Per raggiungere lo scopo, secondo l'accusa, i vertici politici e quelli aziendali nominati dai primi già dall'inizio del 2018 si associavano tra loro in una rete di sistema al fine di commettere una serie di delitti contro la pubblica amministrazione, finalizzati alla manipolazione sistematica dei concorsi pubblici banditi dall'azienda ospedaliera di Perugia e dall'Aslo Umbria 1, con l'obiettivo precipuo di garantire la vittoria o il posizionamento utile in graduatoria dei candidati predeterminati dagli stessi associati. Sono nove le persone per cui viene configurata dall'accusa l'associazione a delinquere, almeno dieci le procedure di selezione del personale, condizionate illecitamente, oltre i 40 i capi di imputazione e 45 gli indagati definitivi nell'inchiesta che ha visto concludere di recente la fase delle indagini preliminari. Considerato che all'avviso della conclusione delle suddette indagini preliminari tra questi risultano indagati, oltre il direttore regionale della Sanità, 12 medici con ruolo anche di direttori e o professori, 5 dirigenti e 2 dipendenti, il direttore generale, il direttore sanitario e quello amministrativo dell'azienda ospedaliera di Perugia, 2 dirigenti, un responsabile ed un dipendente dell'ASL numero 1, il commissario, ex direttore generale ASL numero 1, un dirigente ed un coordinatore dell'azienda ospedaliera di Terni, un dirigente ed un dipendente della Regione Umbria, non solo ambito del concorso per infermieri a tempo determinato bandito dall'ASL Umbria numero 1, la pubblica accusa sostiene che sarebbero stati favoriti ben 174 candidati, 67 dei quali inseriti nei primi 309 posti in graduatoria, tali da garantire l'inserimento lavorativo senza necessità di scorrimento della stessa. Non è in discussione la gravità dei comportamenti che configurano l'ipotesi di suddetti reati contro la pubblica amministrazione, contestati agli indacati, con capi di imputazioni svariati, dal concorso in abuso d'ufficio passando per il favoreggiamento del peculato, fino ad arrivare al falso ideologico e materiale, o alla rivelazione di segreto d'ufficio, anche astretti da vincolo associativo delinquenziale. Evidenzato che tale procedimento penale, quello disciplinare, la novella del decreto legislativo numero 75 del 2017, lascia fermo il previdente regime previsto ai sensi di articolo 55, terra del decreto legislativo numero 165 del 2001, che ha superato la pregiudiziale penale, lasciandola come eccezione qualora i fatti addebitati siano oggettivamente complessi, prevedendo nel caso che l'azione disciplinare possa essere riattivata qualora provengano elementi probatori di cui l'amministrazione giunga in possesso e che siano ritenuti sufficienti, a discrezione dell'ufficio del procedimento, disciplinare, a supportare sul piano probatorio l'azione disciplinare per concludere il procedimento anche con un provvedimento giurisdizionale non definitivo, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'istituto della restituzione integrum, prevista in favore del dipendente, opera quando, all'essito del procedimento penale, anche se conclusosi con la condanna dell'imputato, l'amministrazione non attivi il procedimento disciplinare e che sulla somma corrisposta, sia per il caso di sospensione obbligatoria, sia per quella facoltativa, vanno riconosciuti al dipendente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria del servizio. La giurisprudenza maggioritaria, sia civile che amministrativa, ritiene che la sospensione cautelare e facoltativa, per il suo carattere discrezionale ed unilaterale, non fa venire meno l'obbligazione retributiva, bensì la sospende e subordina all'accertamento della responsabilità disciplinare del dipendente. Solo qualora il procedimento disciplinare si concluda sfavorevolmente per il dipendente con la sanzione del licenziamento, il diritto alla retribuzione viene definitivamente meno, in quanto gli effetti della sanzione retroagiscono al momento dell'adozione della misura cautelare. Viceversa, qualora la sanzione non venga inflitta o ne sia irrogata una di natura tale da non giustificare la sospensione sofferta, il rapporto riprende il suo corso dal momento in cui è stato sospeso, con obbligo per il datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni arretrate, dalle quali dovranno essere detratte solo quelle relative al periodo di privazione della libertà personale. Ponsigliere, concluda, per favore. 30 secondi, non stiamo parlando di patate fritte, Presidente. Della libertà personale, in tal caso, anche in assenza dell'atto datoriale, il dipendente non sarebbe stato in grado di rendere la prestazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, non sussiste l'obbligo del dipendente di comunicare all'esito il procedimento penale all'amministrazione che dovrà, nel caso pertanto, vigilare e controllare per non cadere nella denegata e non creduta ipotesi di inerzia. Tutto ciò premesso, considerato, si interroga la Giunta regionale e l'assessore alla salute e politiche sociali per sapere quali provvedimenti disciplinari sono già stati adottati o sono in itineri nelle fasi procedimentali nei confronti dei dipendenti pubblici che risultano coinvolti nell'inchiesta della Magistratura che ha interessato di recente la sanità Umbra, cosiddetta Sanitopoli. Grazie, Presidente. Assessore Coletto. Grazie, Presidente. Dalla documentazione in possesso del Servizio Organizzazione, Amministrazione e Gestione delle Risorse della Regione si desume che i dipendenti indagati sono tre e si trovano nella seguente situazione. Stiamo parlando dell'ASDA territoriale. Uno, un dipendente è in pensione, un dipendente lavora presso il Servizio della Direzione di Sviluppo Economico e un altro dipendente è presso il Servizio Bilancio e Finanza. Per i tre è stato aperto un procedimento disciplinare sospeso in attesa del procedimento penale per i reati contestati, mentre per uno dei tre è stato archiviato il procedimento disciplinare. Per quanto riguarda i dipendenti dell'Azienda Ospedaliere di Perugia, il Commissario straordinario, con nota protocollo 35879 del giugno 2020, ha inviato la seguente comunicazione. In riscontro all'interrogazione di un oggetto con la presente si comunica che complessivamente sono stati avviati 19 provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti dell'Azienda coinvolti nelle indagini della magistratura sui concorsi pubblici della Sanità Umbra. In particolare si precisa che l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell'area della dirigenza ha provveduto ad avviare contestualmente e contestualmente e sospendere, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 165 del 2001, 16 procedimenti disciplinari nei confronti di altrettanti dirigenti. Questo proprio per permettere il completamento di quelle che sono le indagini. Uno dei predetti procedimenti è stato riaperto e definito con l'inrorazione della sanzione della sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per sei mesi. Per quanto riguarda l'area del comparto, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ha provveduto ad avviare contestualmente e contestualmente sospendere, ai sensi dell'articolo 553 del decreto legislativo 165 del 2001, i procedimenti disciplinari nei confronti di altrettanti dipendenti. Grazie. Sì, per ringraziare l'assessore Coletto della risposta, immaginando la difficoltà documentale che avrà avuto per comporre questa risposta che mi ha dato, lo ringrazio veramente e chiedo cortesemente al Presidente della Giunta di tenere alta la guardia su questo aspetto perché è una questione di giustizia e ce lo chiedono gli Umbri. Grazie. Risponde l'assessore Coletto, interroga il Consigliere Mancini. Attuazione della liberazione assieme legislativa, accordo di programma tra Regione e Comune di Città di Castello per gli interventi immediati riguardanti il consolidamento e il riuso della struttura ex ospedale di Castello. Parola al Consigliere Mancini. Grazie Presidente. Vale la pena sottolineare che questa interrogazione è alla firma di tutti i consiglieri della Lega, quindi tutti hanno ritenuto interessante interrogare l'assessore su una importante struttura che riguarda appunto l'ex ospedale di Città di Castello. Io, assessore, la informo brevemente al di là dell'atto che lei ovviamente avrà letto. è una storia che si porta indietro nel tempo di vent'anni, di quando il nuovo ospedale di Città di Castello viene aperto dopo trent'anni di infiniti lavori, carissimo assessore, perché questi sono i tempi dell'Umbria fino all'altro giorno, dopo trent'anni di progettazione e progettazione viene abbandonato questo edificio e chiaramente viene trasferito nel nuovo. Tuttavia, in questo tempo di progettazione, di studio, che ha portato all'apertura del nuovo ospedale di Città di Castello, di quello vecchio, nessuno si è immaginato cosa farne. E appunto la Regione Umbria ha deciso a un certo punto di acquisirlo a patrimonio con un vincolo di destinazione, così come riportato con la delibera del Presidente della Giunta regionale numero 142 del 12 luglio 2006, che ovviamente ne vincola l'uso sanitario. Cosa abbiamo fatto, chiaramente, nella passata legislatura? Perché qualcuno da questi banchi, sia da maggioranza e da opposizione, si sono completamente disinteressati di questa struttura, tranne in quel momento in cui è arrivata la Lega proprio da questi banchi e ha fatto approvare, e ringrazio anche l'intervento dell'allora Presidente Porzi, una risoluzione che impegnava la Giunta a dar seguito alla valorizzazione di quel presidio ospedaliero. Quindi io voglio sapere oggi, in pratica, da lei, Assessore, come procedere sulla base anche di quella deliberazione che è citata nell'epigraf, appunto la deliberazione dell'Assemblea legislativa del numero 227 del 2018, votata in maniera trasversale, dopo un lavoro promosso dal sottoscritto, sia in audizione con l'allora Presidente Solinas, con l'intervento del Sindaco Bacchetta e ovviamente del Direttore Generale. Quindi c'è stato un lavoro molto importante che ha visto alla fine anche stimolare l'allora Direttore e Assessore al patrimonio Bartolini, che è venuto più di una volta nell'interlocuzione anche presso il Comune, per valorizzare una struttura che chiaramente, come lei sa, è collocata all'interno di un pregevole vicinato, c'è la Pinacoteca che è la seconda dell'Umbria, c'è il Duomo di San Domenio, quindi uno degli angoli della nostra città più importanti. Con questa operazione, in pratica, noi chiuderemmo non solo un vincolo di destinazione, su cui chiaramente ci sono le risorse, aspetto che chiaramente lei mi risponda, ma poi si chiuderebbe anche un circuito di valorizzazione importante e che riguarda una città, scusate ripetermi, come importante, come città di Castello, a valore dell'impegno che hanno testimoniato sia, diciamo, i rappresentanti politici, quelli che si sono realmente impegnati, e mi creda, fino anche poco, però qualcuno si è impegnato per dare valore appunto a questa struttura. Assessore Coletto. Sì, grazie Presidente. Ringrazio il consigliere Mancini per l'illustrazione che è stata fatta e per l'impegno che è stato messo per far riaffiorare questa situazione che va avanti da vent'anni. Vi risparmio di leggere tutto l'iter che ha avuto questa costruzione, questo edificio, da quando è stato dismesso sito ad oggi. Vi dico solo che ad oggi non è più proprietà della sanità, ma è proprietà della Regione dell'Umbria. Quindi si dovranno attivare delle procedure per farlo ritornare nella proprietà della sanità, evidentemente per poter intervenire con la sanità. Diversamente, non avendo più la destinazione d'uso sanitario, sarebbe improbabile che si riuscisse ad intervenire proprio per questioni, diciamo, legali, fra virgolette. Ciò detto, da parte nostra, da parte di questa amministrazione, c'è l'impegno per portare avanti, risistemare, ristrutturare questi ambiti, che sono ambiti anche collocati all'interno di quello che è un contesto di città di castello proprio centrale e che quindi necessita di essere risanato, di essere restituito a quello che era la sua destinazione, non intendo dire ospedale, ma intendo dire sicuramente ad uso socio-sanitario, in maniera tale che se ne ritorni in possesso. Ultimamente è stato assegnato anche quelli che sono, come dire, un importante fondo che vale circa 3 milioni, che viene proprio da un lascito e che ha, come delle sorelle mariani, che ha come destinazione proprio l'ambito socio-sanitario. Quindi sarà inevitabile che ci sia, dalla Regione, insieme con il Comune, un accordo finalizzato a restituire la comunità, questo fabbricato, a restituirlo con finalità socio-sanitaria e, come dire, a far ripartire un risanamento di tutti questi ambiti, naturalmente con le necessarie risorse che, mi assicuro, non sarà semplice trovare, visto e considerato, quelli che sono i finanziamenti che arrivano dal Governo centrale, ma soprattutto quelli che sono stati i finanziamenti dell'ex articolo 20 a livello sempre nazionale, che sono proprio destinati a quello che è il risanamento, la ristrutturazione, gli investimenti immobiliari e in apparecchiature, quindi device destinati alla sanità. Da parte nostra, concludo, c'è la volontà di arrivare in fondo a questa ristrutturazione, a questo risanamento, ritornando a Città di Castello, quello che è un ambito socio-sanitario che può essere sicuramente destinato alla popolazione. Grazie. Assessore, io la ringrazio. Chiaramente io, sapendo che arrivava un assessore operativo rispetto a quelli di vent'anni prima, mi ero portato avanti col lavoro. E, in pratica, tecnicamente, come lei saprà, oltre che l'ascito Mariani, ci sono contributi per il sisma 2016 per 3 milioni circa, e quindi siamo già a 6 milioni e mezzo. La capacità di indebitamento dell'ASD1 è, grazie a Dio, in un equilibrio di bilancio consentita. In più, l'operazione che lei ha accennato e che mi pare di intendere di portare avanti con la massima energia permetterebbe il risparmio di 150 mila euro all'anno di canoni, che attualmente l'ASD1 corrisponde a soggetti terzi, tra enti pubblici e enti privati, e non solo, questo determinerebbe anche un risparmio della logistica e delle risorse umane. Quindi, la stessa delibera che affida, ovviamente, questa importante struttura e che ha nella sua facciata una forte componente storica, di fatto la stessa delibera vincola l'uso sanitario. Quindi, chiaramente, la stessa delibera del 2006 che io poco anzi ho citato. Quindi, io, siccome sapevo che arrivava un assessore operativo, mi ero portato avanti, questo lavoro, chiaramente, a sua disposizione, assessore e anche, ovviamente, di tutto l'indirizzo, con il pieno sostegno del mio gruppo politico, che è il gruppo politico della Lega. Grazie.